France non è parte. France è un uomo buono. E non siamo tutti degli animali. Io mi oppongo, ma a me non può forse. Non c'è opposizione che te. E non può. Adesso ne ha fatto più. Ma cosa è questa politica? Certo! Tiene ragione. Mi viene rinforzato! Adesso ne ha fatto più! Adesso ne ha fatto più! Lei aveva programmato di uccidere il sottofficiale Bauman? No. Programmato no. Ma io l'ho visto morire il signor giudice.